I percorsi di formazione continua erogati dal Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI sono configurati per lo sviluppo, l'aggiornamento e il perfezionamento costante di nuove competenze in diverse aree di apprendimento, come ad esempio dell'ambito del Project Management, dell'Agility and Change Management, dell'Information Communication Technology, Cyber Security, oltretutto quelle che possono essere le competenze prettamente manageriali. L'offerta formativa prevede corsi di lunga durata come possono essere certificati di studi avanzati, diploma di studi avanzati e master in studi avanzati, come anche corsi di più breve durata che possono essere anche moduli di corsi di più lunga durata. Ma abbiamo anche la formazione su misura per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle singole organizzazioni. L'esperienza acquisita nel tempo ci permette di esprimere una solida vicinanza al territorio, affiancando le aziende nella ridefinizione di percorsi formativi innovativi e creando nuovi modelli esperienziali. Una formazione in costante evoluzione è al passo con i tempi, che offre opportunità di crescita personale e professionale, attraverso metodi di apprendimento innovativi, ma specialmente attraverso l'esperienza che tutti i nostri docenti potranno portare. I nostri docenti sono professionisti che arrivano dal mondo aziendale, istituzionale e anche universitario, con consolidate esperienze e con ottime capacità didattiche.